Scatman's World Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano Ragazzi, purtroppo brutta notizia del GP4 Chiaramente come non è sfigato con Formula 1 su 10 serie 5 hanno problemi Allora, è appena uscito purtroppo, sta moda uscita da poker è piena di problemi Per esempio se faccio gare al 90% per esempio in Cina ma anche in Catalogna Mi crasha dopo 20 giri, se invece faccio 10-20% no Quindi purtroppo devo, come si dice Cioè non posso fare una stagione con 10 giri o 5 giri è palloso Quindi devo per il momento sospendere tutto finché non arriva una mod più stabile Beh, mi piace tanto perché lo sapete io amo i giochi di Formula 1 Però è così, ho fatto un errore perché dovevo fare i video su una mod magari già sicura Come la 94 o la 2007, insomma mod già comunque stabile Chiedo scusa veramente perché mi piace tanto anche a me E ci avete un po' di pazienza ecco Comunque sono tutta tanta carne al fuoco con Watch Dogs, Tropico, FIFA, NBA, MotoGP il 20 giugno Quindi insomma i giochi ne abbiamo, quanti ne volete Ecco ragazzi un'altra cosa, se non rispondo su Facebook o sul tubo Cioè non lo faccio a posto ma sono veramente tanto impegnato ragazzi Veramente ho tante cose da fare quindi cerco di fare il possibile Però sapete io, sicuramente i commenti li leggo tutti E apprezzo il fatto che comunque commentate, mi seguite Cioè è una cosa veramente bella Ecco però chiaramente purtroppo quando hai tanti impegni Dopo ti ritrovi a registrare come adesso di sera a tardi Come al solito ormai Quindi dopo è difficile anche fare le altre cose Va buon ragazzi un saluto nel Comandone Veneziano Ancora grazie a tutti, siete meravigliosi E niente, alla prossima Ciao Comenda Veneziano Comenda Veneziano Comenda Veneziano Lo Youtubers Italiano Comenda Veneziano Comenda Veneziano Comenda Veneziano Lo Youtubers Italiano